Quando il furto è come l'amore, nel senso che non ha età, la singolare circostanza si è palesata nella denuncia per furto di una signora ragusana di 75 anni, colpevole di aver derubato della borsa un'85enne invalida. Il furto con destrezza era avvenuto in un panificio dove la vittima si era recata per comprare il pane. Approfittando di un attimo di distrazione dell'ultraottuagenaria, la signora le aveva sottratto la borsa, contenente oltre ai documenti e gli effetti personali e le chiavi di casa, anche 1.500 euro in contante che l'85enne aveva poco prima prelevato per pagare la sua badante e per provvedere ad altre spese. Insomma, l'occasione ha fatto la donna ladra senza limite di età. Dopo la comprensibile disperazione, l'anziana invalida aveva sporto denuncia alla polizia, che le aveva fatto ripercorrere al ritroso la giornata per capire dove e quando era avvenuto il furto. La donna, subito pensata al panificio e dalle immagini acquisite dal sistema di telesorveglianza a circuito chiuso, si è risalita alla signora 75enne, immortalata mentre si appropriava della borsa e usciva furtivamente dal locale. Grande la sorpresa degli investigatori che si erano recati in casa della signora dopo aver appurato che quest'ultima, alla sua prima esperienza da ladra, divorata dai sensi di colpa, non solo aveva riconsegnato i documenti alla vittima, infilandoli nella cassetta delle lettere al suo domicilio, ma aveva conservato in casa la borsa con all'interno il contante, senza averne speso neanche un centesimo e consegnando tutti ai poliziotti. La donna dovrà comunque rispondere del reato di furto con conseguente processo penale al suo carico, l'anziana invalida è dunque rientrata in possesso dell'intera somma che le era stata sottratta, tutto sommato una storia lieto fine o quasi.